festival di sanremo lo stiamo raccontando con tutti i protagonisti tra nuove proposte tra big tra giovani quasi coetanei io e te luca gaudiano io 27 anni tu 29 quindi ce la giochiamo tra pari benvenuto tra noi ciao grazie ciao a tutti buon pomeriggio allora questo è il tuo primo festival di sanremo è una nuova esperienza ma un'esperienza dove tu arrivi forte di tanti anni di cantautorato vissuto vissuto nella tua terra tu sei pugliese giusto sì sono pugliese sono di foggia ok come è stato questo avvicinamento alla musica per te dove diciamo che è stato abbastanza naturale perché a casa si è sempre ascoltata tanta musica e sono sempre stato un appassionato nel senso che non ho mai potuto fare meno della musica è sempre stato molto naturale per me vivere la musica poi a un certo punto ho iniziato a a sentire l'esigenza di praticarla oltre che di fruirne quindi è cominciato tutto così quando ho ricevuto la mia prima chitarra che mi hanno regalato i miei genitori mi ha regalato mio padre a 15 anni ho iniziato subito a strimpellare un po così da autodidatta e fino a quando non ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni che chiaramente erano diciamo di embrionale fattezza nel senso che erano abbastanza orribili le prime cose però poi 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 piano piano abbiamo aggiustato il tiro come in ogni cosa della vita e come imparare a camminare quindi insomma la musica è diventata protagonista da subito quindi poi si sono andato via dalla mia città per iniziare a formarmi e da lì ho iniziato a trasformarla nella mia nel mio lavoro oltre che nella mia passione ti ricordi la prima serata in cui cantato dal vivo la prima un serato ufficiale sì 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 me la ricordo è stato quando avevo più o meno 16 anni e vabbè chiaramente da piccolo ci sono stati tanti episodi tipo recite scolastiche cose nelle quali diciamo rispetto agli altri bambini ero sicuramente meno meno mi vergognavo di meno rispetto agli altri quindi già da lì uno poteva immaginare che comunque il palcoscenico sarebbe stato un luogo familiare però diciamo quando a 16 anni ho iniziato a girare nei locali con il mio gruppo ricordo benissimo qual è stata la prima serata andò anche abbastanza bene nel senso che per noi fu una figata magari avevamo fatto schifo non lo so però era il coronamento di un piccolo iniziale percorso diciamo di prove insieme ci vedevamo più che altro per stare insieme per condividere la passione della musica non volevamo diventare famosi era una cover band che ogni tanto scriviamo qualche canzone insieme ma di gusto discutibile poi chiaramente ognuno ha preso la propria strada e io ho preso la mia allora tu porti al festival polvere da sparo una canzone molto intensa molto autobiografica è una domanda che faccio spesso agli artisti a questo festival che lato di voi che lato di te speri venga fuori sul palco che cosa speri che la gente a casa davanti alla tv ai milioni di italiani un po di ansia milioni milioni di italiani che ci saranno speri possano capire di te in quei tre minuti ma io spero che emerga come sono fatto dentro che nel senso che la mia immagine può può dare a può ingannare nel senso che magari uno vede questo ragazzone enorme con col viso un po magari diciamo sovra pensiero mentre canta perché in realtà io credo tantissimo nelle cose che dico e spero che al pubblico arrivi arrivi la mia fragilità che poi è stata quella chiave d'accesso attraverso la quale le emozioni si sono fatte strada dentro di me per per fare in modo che questa canzone emergesse venisse a galla e spero che arrivi questo spero che che arrivi il modo la facilità con la quale io ho trovato le parole per per descrivere il momento penso peggiore della mia vita e che ancora oggi diciamo ha lasciato un segno importante sulla mia pelle una ferita che difficilmente si può ricucire che sicuramente non sarà il tempo a farlo ma che la musica può aiutare a diciamo a curare ecco ecco che poi la musica può davvero il nostro diario di bordo il diario di bordo della nostra vita notiamo ricordi emozioni momenti belli momenti brutti e quindi ti auguriamo di scrivere davvero tante belle pagine partendo da questo festival potremmo mettere dare un titolo a una pagina ma ci penseremo perché poi tutto questo sarà parte delle emozioni che vivrai in questi giorni allora ti facciamo tanti auguri un grandissimo in bocca al lupo a luca gaudiano gaudiano nuove proposte del festival a presto ciao grazie grazie a voi ciao